Scuola, sanità e trasporti a rischio domani a causa dello sciopero generale proclamato da numerose sigle sindacali. Scatta l'allarme tra i pendolari che rischiano di restare a piedi. La protesta riguarderà le corse dei treni sia a livello nazionale che locale, mentre non toccherà gli autobus di ASF e autolinee. Per i convogli di Trenord, corse a rischio dalle 21 di oggi e per tutta la giornata di domani. L'azienda di trasporto ferroviario precisa che sono esclusi dallo sciopero i treni già in corsa o con partenza prevista prima delle ore 21 e che arrivano a destinazione prima delle 22 e che saranno rispettate le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ciò vuol dire che tutti i treni la cui corsa è prevista entro questa fascia oraria viaggeranno regolarmente. Per la sanità, l'ufficio stampa della S.S.T. L'Ariana ha fatto sapere che in ogni caso saranno garantite le prestazioni nell'ambito dell'emergenza urgenza, ma che non sono da escludere problemi nell'erogazione dei servizi di tutti i presidi sanitari. Per quanto riguarda la scuola, alcune lezioni potrebbero essere cancellate, ma vige lo stesso l'obbligo di frequenza per gli alunni. I motivi per cui i sindacati hanno indetto lo sciopero sono vari, dalla protesta contro la manovra economica varata dal governo, alla richiesta di migliori condizioni di lavoro e più occupazione, all'attacco per l'abrogazione dell'alternanza scuola-lavoro, della legge Fornero e per chiedere l'eliminazione del precariato.